Diciamo, ha un'apertura ma non una via di mezzo, nel senso che o si va direttamente al vuoto oppure si mette in campo una cosa di alto profilo e di alto livello ma purtroppo il dibattito di questi giorni non mi fa ben sperare, diciamo in cui si ha davvero l'ambizione di rimettere il Paese sui binari l'unica bella notizia è che questo governo va a casa perché sono state fatte delle cose molto gravi anche nel mio settore, nel mio campo, dallo sblocco ai cantieri fino ai condoni edilizi i Cinque Stelle erano saliti al governo per rivoluzionare il Paese mi sembra invece che la Lega li abbia tenuti a guinzaglio abbastanza è una crisi stranissima, mi viene da dire che evidentemente dirigere le crisi dal palco del papete al terzo mojito non porta bene non ha lucidità come si è visto perché non si è capito come si intendeva portarla avanti questa è una battuta che ha detto anche Alessandro Di Battista? però è così perché è veramente irrazionale, non trascini un Paese in questa situazione con queste modalità trascinandoci per una settimana su un dibattito, stiamo dando uno spettacolo indecente io penso per gli italiani a me quello che mi preoccupa è Grillo che interviene con il video, con il capoccione ma vogliamo un altro riportare... ma quello fa parte... ma non fa parte della politica bene o male Grillo ci ha abituato a tutto questo ma non ci dobbiamo abituare perché si parla del governo di un Paese noi dovremmo mettere in campo un progetto ambizioso di fine legislatura in cui i soliti noti magari fanno un passo indietro e non scrivono sui giornali che cosa dovremmo fare forse anche a quelle provocazioni che poi è arrivato a portare un movimento 5 stelle anche al 30% insomma